cari amici buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su uno dei principali monolitti della Val Zoldana non è quello che mi aspetterei di fare prossimamente spero quest'anno così male li concateno tutti e due va beh è il civeta quindi oggi sono qui a Vandele Sasse non sono da solo ma sono in compagnia di e mi stanno accompagnando verso questa magnifica cima che è molto sentita per loro molte volte quindi mi faranno da cicerone quindi sentiero per ferratatissi ora siamo arrivati a Vandele Sasse dalla Val Zoldana anzi vi lascio anche il video che praticamente è questa salita qua l'avevo fatto e ho fatto un video dedicato per arrivare fino a qua proprio partendo dalla Maga Grava anzi l'altra volta ero partito più sotto però questa volta siamo partiti più su giustamente e niente adesso immergiamoci adesso questo magnifico panorama della cima del civeta prima 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 e poi cima civeta adesso andiamo perché c'è un'aria veramente devastante esatto bene amici è il momento di imbrogarsi e di partire per la ferrata è il momento di imbrogarsi e di partire per la ferrata è il momento di imbrogarsi e di partire per la ferrata diciamo ragazzi, prima cima di giornata poi ci manca la regina nelle cime spettacolo ci sta un po' nuvolando qua ma comunque guardate di qua che spettacolo che storie meraviglioso la cima è fatta e ora bisogna accingerci la cima della civetta ragazzi quindi si prosegue verso sinistra la nostra cima di prima ragazzi questa qui è il rifugio torrani e manca ancora un altro po' e questo è andrea questo andrea e questa è l'area e l'area si ora è che manca poco ragazzi cima manca poco wow sono vicino alla civetta a 3.220 sempre un'emozione unica arrivare qua è la mia montagna di cuore grazie a tutti Grazie a tutti. Un saluto alla Croce di Vetta. Guardate, sono già giù loro, guarda che bravi. Ed ora si inizia la discesa. E' l'altro monolite della Val Zoldana. Arrivati al rifugio Torrani, ragazzi. Che chicca questo rifugio, davvero è una chicca. Guardate che panorama di cui gode, incredibile. Uno spettacolo questo rifugio, ragazzi. Davvero spettacolare. Però è arrivato il momento di partire e scendere. Quindi, anche dato il meteo, che comunque, ragazzi, se fate un po' proche qua, però è una giornata così. Se non c'è sole, funziona così. Quindi, meglio se partiamo. E direzione Magalagrava. E direzione Magalagrava. Che piccola! Che piccola! Che piccola! Passo del Tenente Siamo arrivati alla fine della ferrata della via normale Ed ora iniziano dei bellissimi viaioni da affrontare Faremo il giro e per ritornare poi alla Maga Grava Giusto? Bene Sì, ho i suggeritori qua dietro, come sempre Backstage Backstage, esatto Arrivati a Forcella della Grava E credo che ormai il video possa finire qui Tanto ormai avete... Anzi, mi ricordo, guardate il video che vi porta davanti delle sasse Che lì è già un po' più dettagliato rispetto a questo Che è tutto il giro completo Circa 1.700 di dislivello Più o meno 12 km, ricordatevi 12 Perché vuol dire che è bella in piedi ragazzi Comunque, niente, è un'esperienza fantastica E credo che una volta nella vita merita se siete dei camminatori O comunque vi adentrate anche a fare ferrate Un po' di più di più di camminatori Esatto Mi adentrate anche a fare qualche bella ferrata E sicuramente merita, merita, merita Quattro volte lo dico Ringrazio Andrea e Lara Per l'occasione di fare questo bellissimo giro E noi... Siamo divertiti, no? Madonna No, no, no Oggi giornata stupenda Guardate, ormai è praticamente il tramonto Quindi abbiamo completato tutta la giornata Io questa mattina mi sono alzato alle 5 Ormai sono le 7 quasi Se non passate Quindi insomma giornata piena Inizia a piovigginare Quindi chiudiamo qui il video veloci Vi ricordo iscrivetevi al canale Anche loro, di Andrea e Lara Anzi, guardate tutti e due i video Poi mettete sotto qual è il meglio Ma sicuramente sarà il loro Quindi niente Like o dei video Iscriviti E ci vediamo al prossimo contenuto Ciao Ciao